Si tratta di una vera e propria rivoluzione, quella messa in atto nell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il direttore generale Vincenzo Vigiani, attraverso la delibera numero 74 del 25 febbraio scorso, ha revocato tutti i primari con incarico temporaneo. Nella delibera si legge la direzione strategica nel prendere atto delle strutture apicali e aziendali prive di direttore responsabile, resosi ulteriormente vacanti per pensionamenti o dimissioni, nell'emore dell'approvazione del nuovo atto aziendale da parte degli organi regionali, ritiene necessario per centralità e complessività dell'attività delle strutture interessate, assicurare la direzione delle stesse, affidandole provvisoriamente a personale e medico in possesso di requisiti professionali elevati. I dirigenti medici che corrono il rischio di non vedersi confermati nell'incarico primariale provvisorio sono 36, prorogati fino al 9 aprile prossimo e a capo di unità operative fondamentali come cardiochirurgia d'urgenza, radiologia vascolare, urologia, pediatria, neurochirurgia, anestesia e rianimazione. Le procedure di selezione interna per l'affidamento provvisorio di direzioni di unità operativa complessa saranno aperte anche a personale universitario. Ciò significa che i primari universitari, grazie ai titoli, pubblicazioni ed esperienze di libera docenza, potrebbero essere preferiti a primari ospedalieri provvisori, vittime del blocco del turnover. Un'ulteriore competizione che aggraverebbe il clima già atteso in alcuni reparti. Basti pensare che uno dei medici il cui incarico è scaduto è Pasquale Ardimento, il primario di chirurgia generale che di recente è entrato in rotta di collisione col suo omologo universitario, il professor Domenico Lombardi. Tant'è che per salvaguardare gli specializzanti il manager Vigiani ha deciso di sospendere la delibera con cui divideva equamente il reparto tra i due chirurghi e di affidarne invece la responsabilità al solo ardimento, cosa che ha fatto scatenare la reazione di Lombardi. Il nuovo provvedimento potrebbe quindi rimescolare le carte ed andare ad aprire nuove ferite mai rimarginate del tutto.